Il 21 e 22 febbraio siamo tutti impegnati per il rinnovo dei nostri rappresentanti all'interno dell'Assemblea del Fondo di Previdenza Complementare Fonchim, che riguarda i lavoratori dell'industria chimica e chimico-farmaceutica, cui hanno aderito anche i settori di GPL, coibenti, vetro e lampade. Ti chiediamo di votare e di dare fiducia alla nostra lista. Da 25 anni i rappresentanti FICTEM CGL sono presenti negli organi istituzionali del Fondo, al tuo fianco per garantirti di sfruttare al meglio i vantaggi della pensione complementare, con una gestione rivolta alla riduzione dei rischi finanziari e attenta alla sostenibilità ambientale e sociale. Il voto alla nostra lista è importante anche e soprattutto se sei un giovane lavoratore. Così ti puoi garantire un reddito integrativo certo, sia ai fini pensionistici che per altre esigenze importanti. Negli stessi giorni i lavoratori dell'industria chimica, chimico-farmaceutica, abrasivi, lubrificanti e GPL dovranno esprimersi per rinnovare i rappresentanti dell'Assemblea del Fondo di Assistenza Sanitaria FASCHIM. Il tuo futuro per noi è importante. Con la nostra competenza ti garantiamo sicurezza del reddito, tutela dei diritti e serietà nella contrattazione. Dacci fiducia, guarda al futuro. Il 21 e il 22 febbraio vota le liste FICTEM CGL. Il 21 e il 22 febbraio vota le liste FICTEM CGL.